Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e so bene che da un bel po' che non mi sentite Ma finalmente rieccomi qui con un video non molto lungo ragazzi come sempre Ma abbastanza importante, quindi ascoltatelo tutti, mi raccomando raga Lasciate già un bel pollicione in su per il sopporto Volevo dirvi questa cosa davvero importante Entro questa settimana ragazzi non farò molti video a causa della scuola Perché per molti di voi magari ancora non è iniziata Per me è iniziata a lunedì, quindi è iniziato già lo stress Conoscere nuovi professori Oltretutto c'è capitato un professore, mamma mia raga non vesto nemmeno a di Quindi c'è stato un po' di difficoltà iniziale Riprenderò al 99.000%, attenzione, quando uscirà FIFA In che senso, quindi dal 29 settembre in poi ragazzi Credo di portare tutti i giorni video di nuovo Credo che poi dopo che più o meno mancano due settimane Riuscirò a prendere di nuovo un buon passo anche a regolarmi con la scuola E raga, purtroppo è iniziata la scuola Non possiamo farci nulla, è una cosa che si deve fare Come voi ben sapete, quando si parla di scuola sono sempre prima di impegnarmi Almeno nel mio piccolo Quindi mi raccomando, se non farò molti video questi giorni in cui è appena iniziata Raga, non cominciate subito a dire e a fare e a giudicare Perché dovete capire anche voi che la scuola è davvero importante Molti diranno, ma che schifo la scuola Raga, anche a me fa schifo Ma bisogna studiare perché si deve studiare Detto questo ragazzi, mi raccomando Per i prossimi video ne li riparleremo più avanti Comunque un bel like, un commento, un condividete Fatemi sapere perché è iniziata la scuola Come stanno andando questi primi giorni Ci becchiamo alla prossima E ciao a tutti ragazzi